19 marzo 2008. Muore lo scrittore di fantascienza Arthur Clarke. È famoso soprattutto per il racconto breve La sentinella, dal quale Stanley Kubrick trarrà il film 2001 Odissea nello spazio. Ma a Clarke è dedicato anche un asteroide e l'orbita geostazionaria della Terra è chiamata fascia di Clarke perché lui, per primo, ne aveva ipotizzato l'utilizzo per i satelliti usati per le telecomunicazioni.